Il nuovo disegno per il volume 6 2022 di Limes è piuttosto una suggestione. Non è un disegno geopolitico che vuole rappresentare esclusivamente qualche cosa, ma è un lavoro che ho realizzato estrapolando un disegno che normalmente si utilizzava sugli atlanti antichi per disegnare i rilievi nei deserti ed è tutta la zona puntinata, naturalmente rielaborata secondo le mie esigenze, che estrapolato dal suo contesto può sembrare come della schiuma, un'onda, un corallo o qualsiasi immagine o qualsiasi cosa possa venire in mente a ognuno. In cima a questa spinta, a queste bollicine, a questa spinta ci stanno Stati Uniti e Russia che si stanno confrontando duramente all'interno della nostra Europa, sia a Kaliningrad che in Ucraina.